Domenica, al nord pressione in aumento, soffiano venti freddi e così la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Lunedì, pressione in aumento, i venti cambiano direzione, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Ancora forti gelate notturne, meno freddo di giorno. Al centro, venti artici sulle regioni e pressione in aumento pertanto la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un sensibile abbassamento delle temperature. Lunedì, ulteriore aumento della pressione, ancora venti da nord, ma deboli. Giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutte le regioni. In serata peggiore in Toscana. Al sud, venti gelidi sulle regioni, clima molto freddo e generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo a tratti nuvoloso sulle coste ioniche. Lunedì, soffiano ancora venti da nord e freddi, ma la pressione è ancora in aumento e così la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.